Combattere il regime aveva un senso, a distruggere il pianeta per breve. Pensavi davvero che l'avrei fatto, Grodd? Possibile! F***i! Mi spiace, è passato così tanto, sovrida. È vero, accampo sempre scuse, ma stavolta ho trovato il modo giusto di onorare la tua memoria. So cosa starei pensando. Il vecchio Lenny si è venduto. E allora? Il regime o Breviac non devono avere altre occasioni. Mi sono persino riconciliato con il velocista Scarlato. Suonerà ironico, ma è il miglior alleato che abbia mai avuto. A parte te, sovrida.